In questo pian terreno, in via dei Amicis 22B, zona semicentrale, Luigi e Giuseppina c'erano venuti ad abitare da poco più di un mese. La casa era infitto, i due erano contenti della loro nuova sistemazione. Prima vivevano in Vico della Pietà, pieno centro storico, alle spalle del Museo Civico di Foggia. Lui, Luigi Veneziano, aveva 37 anni, di mestiere faceva il meccanico. Lei, Giuseppina Fiore e Casalinga avrebbe compiuto 29 anni il prossimo 14 luglio. Sono morti nel sonno in quel letto grande che è stato anche la loro tomba. A schiacciarli, una lastra di acciaio, questa è pesantissima, ed era stata collocata al di sopra del lettone. Fungeva da soppalco, serviva per appoggiare utensili e suppellettili. In mezzo a loro, il piccolo Salvatore è di soli tre anni. La lastra si è fermata sui genitori e quindi non è scesa sino a schiacciare il bambino. Salvatore ha riportato traumi ed escoriazioni, ma non sembra grave, almeno fisicamente. Sulle conseguenze del trauma psicologico è ancora presto per esprimersi. A prendersi cura di lui, adesso ci sono soprattutto la nonna e la zia materna. Dice solo mamma, mamma non dice niente altro, però c'è la nonna vicino e quindi insomma lui ha un buon rapporto con la nonna, per cui al momento è ancora, cioè, in uno stato che certamente non sente ancora la mancanza della mamma, ma è troppo presto. Penso che contatteremo un neuropsichiatra infantile per farci dire, per farci dire come ci dobbiamo comportare.